L'altra cosa è che oggi non avviene più. Una cosa voglio sentire il tuo parere, cioè qui ogni tanto quando si divanga il passato di Cinecittà si dice ah però quando c'era Gleopatra, ah però quando c'era Belur. Io sotto sotto non sono contento quando so che Cinecittà per molti mesi è nelle mani di un colosso all'americano. Perché so che in quei periodi lì il Cinemadagliano è cacciato da Cinecittà, magari il Cinemadagliano proprio in quei momenti va altrove. Cioè è un problema, siccome c'è stato l'incidente di Superman che doveva essere girato da Cinecittà, poi non è stato girato più a Cinecittà, grandi rimpianti per questo. Che pensi di questo? Ma sai io penso sempre a una cosa, che noi abbiamo proprio la voglia di essere occupati militarmente dagli americani. Infatti mi ricordo che erano occupazioni militari quasi, ci mancava la military police qui. Ma è una voglia, proprio un desiderio della borghesia italiana di essere occupata da gente ricca naturalmente da sfruttare. Ma d'altronde sai, devi tener conto, prima io dicevo di Roosevelt e Mussolini, nessuno si è mai chiesto perché Mussolini, che per esempio cominciò a vietare un certo tipo di cinema francese, invece fece passare tutti i film americani e c'è qualcosa, la cosa non è privata di significato. La stessa cosa avviene con l'attuale regime, insomma, cioè l'America fin dall'epoca del fascismo era il modello, intendiamoci, un modello economico e sociale. Far vedere un fin di capra non era grave come un fin di carneo, di renuare. Perché i miti che si volevano proporre all'immaginazione popolare erano quelli. Quindi quando arriva l'esercito americano uno si sente protetto, quindi una grande truppa di Benul. Quindi i problemi di Cinecità si risolvono per 7-8 mesi, si va avanti per 4 mesi successivi ancora e il cinema italiano intanto l'anno. Poi però a sua volta il cinema italiano ha delle responsabilità perché non si pone in forma intelligente davanti alla sua etilistica attualmente. Elio Petri, perché sei venuto a Cinecità? Perché mi piace. Ma non è la prima volta? No, io ci ho girato delle scene d'interno della classe operaia in Paradiso e poi ci ho girato praticamente tutto, todo modo. E no, lo dico francamente, mi piace venire qui anche perché soddisfa, se tu vuoi, a parte la bella passeggiata archeologica, perché se uno si fa un itinerario, viene dal centro e fa la piantica, è bellissimo. No, perché soddisfa, non so quanto in questo momento sia chiaro quello che dico, una specie di dovere civico che io sento nei confronti proprio di Cinecità. Cinecità cos'è? E' un posto dove la gente ancora sa fare cinema e noi abbiamo assistito negli ultimi vent'anni a una degradazione molto grave nel campo del mestiere del cinema. Naturalmente non è solo nel campo del mestiere del cinema, c'è una degradazione grave proprio del lavoro manuale, insomma, anche della creatività del lavoro manuale. Ecco, questo è un posto in cui ancora, alla disperata, come una specie di zattera della medusa del lavoro manuale, e con mille ostacoli, ancora c'è, si può sentire l'ego di quello che una volta era il nostro mestiere. E che io da ragazzino ho appena fatto in tempo a capire. E sì, perché negli anni 50 c'è stata forse proprio l'espressione più totale della capacità di Cinecità di essere quello stabilimento cinematografico che tutti ricordano, negli anni di Carosello Napoletano, delle notti bianche, delle costruzioni di... Sì, ma poi vedi Maurizio, io ho pensato anche a un'altra cosa, per esempio, tutti quelli che sono contro Cinecità non sanno di fare il gioco della speculazione edilizia. Questa è un'altra cosa che mi colpisce, quando io penso a questa forma adesso un po', mi sono spesso in modo rutinieso, dico dovere civico per capirci. Chi vuole l'abolizione di Cinecità, la dissoluzione di Cinecità, vuole secondo me che questi terreni finiscano in bocca agli speculatori. Sì, ci sono già degli enormi palazzi che avvicinissimi a loro, molto minacciosi. Invece questa è proprio un oasi del cinema, ma oasi, insomma, nel senso che questo luogo, per esempio, c'è la storia. Ora, il nostro modo di vita, per esempio, vuole abolire la storia, non so se sei l'accordo. Io sto cercando di fare questo. Pensa quanti meravigliosi cinema della nostra infanzia, io parlo della mia, tu sei più giovane, hanno trasformato in garage, trasformato in magazzini, calzature. Io mi ricordo sotto a casa mia c'era la Renula, che poi sono cinema veramente storici, cioè dove hai sortito, che ne so, da Fabrizi, Totò. Totò non esordì, ma insomma, recitò spesso la Renula. Era un cinema delizioso, distrutto. Ma spariscono come funghi senza che nessuno dica nulla, non c'è neanche più una notizia sul giornale. Improvvisamente ti accorgi che è un cinema, che è una cosa molto grave. Sì, ma il nostro non è un lutto da cinefil, capisci? No, no, no. È un lutto da persone che hanno vissuto in una città, che hanno visto trasformare e imbarbarire. E nell'imbarbarimento della città c'è la perdita di nozione e di mestiere. Il mestiere, cioè fare le cose con le proprie mani. E il cinema si può fare solo con le proprie mani. E il cinema si può fare solo con le proprie mani.